Sono altri 699 nuovi casi positivi al covid nelle Marche, ma la riduzione rispetto ai giorni scorsi è dovuta principalmente al minor numero dei tamponi analizzati, tanto che la percentuale di positività degli stessi ha raggiunto un livello senza precedenti 33,4%. Tre invece i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore, tutti nella provincia di Pesaro e tutti con patologie pregresse. A preoccupare è il fatto che tra le vittime ci siano due under 50. Si tratta di una donna di 49 anni di Fano e un 41enne di Tavullia. A loro si aggiunge un 84enne di Cagli. Sono 3.257 in tutto i decessi registrati nelle Marche dall'inizio della pandemia. Tornando ai nuovi positivi, i 699 casi sono emersi a seguito dei 3.459 tamponi analizzati, 2.091 nel percorso screening e 1.368 nel percorso guariti. Oltre la metà delle nuove positività sono relative alla provincia di Ancona con 399 casi. Seguono la provincia di Pesaro con 185, quella di Macerata con 40, quella di Ascoli con 38 e la provincia di Fermo con 10. 20 sono i casi riferiti a fuori regione. Ancora un record per il tasso di incidenza accumulativo ogni 100.000 abitanti, salito a quota 621,08. Restano stabili le percentuali dei vaccinati rispetto all'incidenza del virus. Il 59% dei positivi è vaccinato, percentuale che scende al 42% per i ricoveri in area medica e al 24% per le terapie intensive. Si amplia la forbice tra la possibilità di un vaccinato e un non vaccinato di essere ricoverati. Per ogni vaccinato in terapia intensiva i non vaccinati hanno 8,5 volte in più la possibilità di essere ricoverati, dato che è di 3,8 volte per i ricoveri in area medica e di 1,9 volte per la positività. Infine aumentano di 6 unità rispetto a ieri. I ricoveri, in particolare le terapie intensive, salgono a 50, più 2, pari al 19,8%. I ricoveri in area medica salgono di 4 unità, pari al 23,16%. In tutto sono 223 le persone attualmente ricoverate nelle Marche, i guariti nelle ultime 24 ore sono 6.